Ciao Eleonora, ciao, buon pomeriggio, grazie. Ci vediamo tra pochissimo due minuti di pubblicità e poi cominciamo con la volta buona, tra pochissimo. Giulia non tornerà, a noi Giulia manca immensamente. Giulia non tornerà, a noi Giulia non tornerà. Ancora buon pomeriggio, sono con Eleonora Daniele che questa mattina ha intervistato a lungo Elena, la sorella di Giulia. Proprio con lei faremo il punto su questo ennesimo caso di femminicidio. A pochi giorni dal 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Eleonora, sono giorni pesanti e tra l'altro tu conoscevi bene questa famiglia. Sì, la conosco bene perché la famiglia della mamma di Giulia è di Saunara, cioè lo stesso paese dove io sono nata. È cresciuta, me la ricordo molto bene, la mamma di Giulia, come mi ricordo. E ho un bellissimo ricordo degli altri zii, tra cui Andrea che è lo zio con cui ho passato tante volte con la nostra compagnia lì a Saunara. Tante belle serate insieme, in compagnia. Vedere queste immagini della fiaccolata, devo dire che avete passato prima, una fiaccolata silenziosa dove a esprimere i propri sentimenti sono l'affetto delle persone, la vicinanza delle persone, ma anche un silenzio, devo dire, di grande dignità da parte di tutti. Ti interrompo, ci fermiamo per 60 secondi e poi continuiamo a parlare, ma tra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo in diretta prima dei 60 secondi con Eleonora, stiamo parlando di questa fiaccolata silenziosa che c'è stata ieri sera. Tutti si sono uniti intorno a questo grande dolore della famiglia di Giulia, famiglia che Eleonora conosce perché sono, si può dire in questo caso, compaesani. Sì, compaesani, insomma, Vigonovo, poi un paesino molto vicino a Saunara. Dicevo, grande silenzio, grande compostezza delle persone che sono state insieme ieri ai genitori di Giulia e anche ai genitori di Filippo, questo lo dobbiamo dire, che ieri c'erano in fondo al corteo. Ecco, ecco, una forza umana, una grande empatia ma silenziosa, che unisce tutte queste persone, unisce tutti quanti noi intorno al dolore di questa famiglia. Questa mattina ho parlato a lungo con la sorella di Giulia, Elena, ha detto delle cose molto forti, molto forti, sì. Più grande di lei di due anni? Sì. Io e Giulia l'11 febbraio di quest'anno siamo andate a Milano a sentire un concerto insieme, avevamo comprato i biglietti tanto tempo fa e lei probabilmente aveva detto qualcosa a lui del tipo sì, ti aggiorno su quello che faccio, lui però l'aveva presa troppo letteralmente, nel senso l'aveva obbligata a scrivergli ogni due secondi quello che stavamo facendo e dove eravamo. Al che io gli ho detto Giulia però non puoi stare tutta la giornata sul telefono, sei qui con me, goditela. E lei gliel'ha detto, gli ha detto guarda ti iscrivo ogni tot ore, non ti abbandono però appunto voglio cercare di vivere presente, di non stare sul telefono. E lui ha iniziato a fare scenate del tipo no ma me l'avevi promesso, mi stai tradendo, questo è abbandono, non è giusto, tu mi avevi fatto una promessa. Al che io ho preso il telefono di mia sorella, ovviamente molto consensientemente, nel senso che lei era più che felice di lasciarmelo, in maniera tale che non sentisse la pressione di dover rispondere ogni volta che la sentiva vibrare. Allora questa testimonianza, questa dichiarazione che ha fatto la sorella a me ha molto colpito. Perché stiamo parlando di due ragazzi di vent'anni che hanno la loro vita, i loro amici, l'università, perché una ragazzina di vent'anni va con la sorella ad un concerto e deve stare lì a scrivere sempre al suo fidanzatino? Allora è stata molto chiara questa mattina Elena, fra l'altro non so se tu ricordi all'inizio di questa vicenda la settimana scorsa, quando si diceva ma lui è un bravo ragazzo, lui non ha mai dato segnali di nessun tipo. In realtà i segnali erano stati dati, segnali abbastanza evidenti, tanto che Giulia, e questo ce l'ha raccontato questa mattina Gabriella Marano che è la consulente della famiglia, Giulia ad un certo punto aveva deciso di farlo seguire rispetto a un progetto della regione Veneto da uno psicologo e questo evidentemente non è bastato, però i segnali non solo c'erano, ma Giulia aveva paura. Ma lui quindi è andato dallo psicologo? Cioè lui ha accettato di farsi seguire? Sì, per poco tempo, per poco tempo poi ha lasciato. Questa cosa lo sapevano i genitori Eleonora? Questo non lo so, questo ce l'ha raccontato questa mattina la consulente di parte della famiglia, che lo sapessero o non lo sapessero, non ne ho idea se Filippo, il figlio, glielo avesse detto ai propri genitori. Sicuramente i segnali, quello che è importante da dire, c'erano questa possessività, questo controllo maniaco sulle cose, questo desiderio di sapere dove, come, quella sera l'aveva tenuta tutto il tempo sul telefonino. E molte amiche, non solo la sorella di Giulia, raccontano di messaggi e di comunicazioni tali per cui Giulia aveva iniziato ad avere paura. E poi quella faccenda delle università, dove lui le aveva detto, ma no, non ci dobbiamo laureare separati, ci dobbiamo laureare insieme. E lì Giulia, il campanello d'allarme, per Giulia era arrivato. Intanto mi dicono che è arrivato Daniele Cortese davanti alla casa di Giulia a Vigo 9 e ci colleghiamo con lui. Tra l'altro Daniele stamattina è andato anche all'università e quindi dopo magari potremo vedere quello che sono stati, proprio il sentiment di questa mattina tra i colleghi universitari di Giulia e di Filippo. Buon pomeriggio Daniele. Buon pomeriggio Caterina, buon pomeriggio a voi. Intanto fatemi subito dare una notizia. L'imputazione, fa sapere il procuratore capo di Venezia, che Erchi cambia, è diventata l'imputazione di omicidio volontario. Naturalmente questo è un'imputazione provvisoria, bisognerà attendere tutti i riscontri degli inquirenti su questo. Ma quello che davvero conta qui, in questo luogo, che è un luogo di dolore, lo si sente, non è retorica, è la partecipazione di questa comunità che ieri sera si è stretta attorno a Giulia, alla sua famiglia. La potete vedere, è tutta qui, in questi fiori, questi biglietti, questi piccoli ceri, palloncini. Ed è una testimonianza plastica, si vede che c'è un paese intero che è qui per questa famiglia. Stamattina, lo dicevi, prima siamo stati all'università e anche lì abbiamo visto negli occhi proprio degli studenti, era affollatissimo questo minuto di silenzio prima delle lezioni, oltre al dolore anche la speranza che in realtà da qualcosa di così orrendo, di indicibile quasi, l'ennesimo femminicidio, l'avete ricordato, sono più di cento le donne solo dall'inizio dell'anno ammazzate dai maschi, lo possiamo dire, dai compagni, mariti, fidanzati, amanti. C'era questa voglia che da qualcosa di brutto potesse nascere qualcosa di virtuoso, qualcosa di bello. Tutti dicevano, speriamo che stavolta qualcosa cambi per davvero. Sì, ecco, su questo dato che dice... Ci sono bambini, ragazzi che continuamente... Su questo dato che dice, Daniele, è molto interessante, su questo numero, 105 femminicidi, sono più di 80, credo 83, il numero avvenuto attraverso le mani violente di un compagno o all'interno delle pareti domestiche. Questo è importante da dire, per cui c'è un numero altissimo fatto nell'ambito delle relazioni affettive. E a proposito delle relazioni affettive, Elena, appunto questa mattina, e non solo questa mattina, ha parlato con te, è stata molto incisiva, no? Questa ragazza che ha 24 anni, che sta trovando la forza, il coraggio, con questo dolore incredibile della sorella, e vi ricordiamo anche mesi prima per la mamma, di poter affrontare le telecamere e di imporre il suo pensiero, affinché questa vita di sua sorella non sia dimenticata, e che possa servire davvero per altre ragazze di avere questi campanelli d'allarme. Sentite cosa dice Elena. Pure, ad esempio, un altro episodio, anche quello molto allarmante, quello là in realtà aveva allarmato Giulia, ed è stato il motivo per cui lei ha rotto con lui la prima volta. Che lui a una certa, gli ha detto, verso febbraio, marzo, dovresti fermarti con gli esami e darmi una mano a me, perché non possiamo non lavorarci insieme. E questa cosa è una cosa spaventosa, perché in una relazione bisogna vivere così in simbiosi, come se uno dei due non potesse emergere, come se ci fosse una ferita di qualche tipo solo perché la tua ragazza si laurea qualche mese prima di te. E ovviamente questa cosa non gliela faceva pesare, non è che dicesse sono più intelligente, semplicemente lei aveva iniziato magari a studiare in una certa maniera e lui era rimasto un po' indietro, ma non c'è nulla di male. E questa separazione così spaventosa da parte sua è una cosa pericolosa, è morboso, non va bene, bisogna fare attenzione perché questo qua magari non può essere percepito come un segnale d'allarme, però lo è, lo è come. E sì, lo è come, cioè ricordiamoci che per Giulia ci sarebbe stata l'attesi di laurea giovedì e chiedere alla propria fidanzata, ti devi fermare, mi dovresti dare una mano, ci dobbiamo lavorare insieme? A Filippo mancavano 6-7 esami, per cui è veramente assurdo quello che gli ha chiesto, non è che la donna debba aspettare l'uomo per laurearsi, E viceversa, attenzione, è viceversa. Quello che ha detto esattamente la sorella questa mattina, una comunicazione sicuramente non di imposizione, ma di riflessione perché Elena di fatto parla alle sue coetanee e alle ragazze che hanno l'età di Giulia e dice semplicemente, è un messaggio molto semplice, state attente, state attente, cercate ovviamente di leggere i segnali, sono segnali quando c'è qualche ragazzo fidanzato, geloso, possessivo, che ha la mania del controllo, attenzione perché quella è una relazione tossica, è una relazione che fa soffrire e soprattutto è una relazione che può diventare molto pericolosa. Lei si era accorta, aveva paura, si era accorta di questo sentimento possessivo di Filippo nei confronti di Giulia. Gliel'aveva detto più volte a Giulia, ma Giulia forse per cercare di salvare in qualche maniera questo ragazzo che continuava a porre in sé dei ricatti emotivi enormi, quotidiani, costanti. Perché Eleonora, in questa relazione mi sembra di capire che lei volesse salvare il ragazzo e non la relazione. Sì, sì, voleva salvare il ragazzo perché lei non voleva assolutamente più avere nulla a che fare con Filippo. E anzi, non voleva nemmeno, questo ha detto Elena questa mattina, non voleva più nemmeno esserci amica, perché lui ormai era diventato veramente, veramente ossessivo. Sono molto forti le parole anche del padre di Filippo, dei genitori di Filippo, che dicono attenzione, noi non pensavamo, non sapevamo, non capivamo, ecco, non credo sia nemmeno giusto colpevolizzare i genitori. Oggi credo che tutta la società, guardate tutta, dall'istituzione alla politica, ai giornalisti, se l'informazione si debba veramente interrogare, ma di farlo in maniera profonda, non banale, senza pressapochismi, vi prego, perché io da tanti anni mi occupo di questi casi e ogni giorno c'è un nuovo caso, purtroppo lo raccontiamo, li raccontiamo in maniera diversa, in luoghi diversi, ma il copione è sempre lo stesso. Questa storia però, secondo me, è una di quelle storie che tutti noi ci ricorderemo, perché parliamo di due ragazzi iscritti all'Università di Ingegneria Biomedica, due ragazzi che si stavano per laureare, due ragazzi di una famiglia normalissima, due ragazzi con i genitori che in realtà venivano seguiti al loro meglio, per giunta una ragazza che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato, che aveva perso anche la mamma pochi mesi prima. Intanto fatemi salutare Daniele Cortese, perché con lui ci colleghiamo più tardi, anche perché appunto vogliamo raccontare quello che è successo questa mattina all'Università di Giulia e Filippo. E un altro passaggio dell'intervista di stamattina che hai fatto tu, Eleonora, a Elena, vorrei mostrarlo. Io non ho molto da dire, se non magari parlare anche ai genitori, siccome appunto ovviamente l'educazione non è solo quella impartita in famiglia, l'educazione purtroppo arriva da tanti punti, però c'è una responsabilità genitoriale che non va sottovalutata. Quindi cercate di educare i vostri figli all'affettività e alla sessualità, senza aver paura magari di parlargli, senza aver paura, senza vergognarvi di affrontare certi temi. Insegnate i vostri figli ad essere fragili e che amare non significa possedere, che bisogna lasciare libere le persone. E che alla fine un no, una volta, può essere un motivo di crescita. Io trovo questa ragazza veramente molto matura rispetto alla sua età e dice delle cose molto forti, molto vere. Ripeto, parla ai suoi coetanei, ma questo ci apre ad una riflessione anche su quanto sta accadendo quotidianamente e sulla protezione delle donne oggi. Mi occupo di tanti casi, non solo di femminicidio, ma di donne invece che hanno paura, che vivono costantemente nella paura. Mi auguro veramente che si possa dedicare alle leggi che ci sono. Fra l'altro è stato incrementato il Codice Rosso a settembre, per cui assolutamente è una cosa ottima, ma quale leggi bisogna poi dedicare i fondi, i soldi, perché i centri di antiviolenza hanno bisogno di economia, hanno bisogno di fondi per tutelare e proteggere le nostre donne in difficoltà e sotto minaccia. Allora, in tutto questo ci troviamo con questo omicidio di fronte a due famiglie distrutte. Elaborare il lutto per il papà, per la sorella e il fratellino di Giulia sarà molto difficile e dall'altra parte c'è un'altra famiglia, un'altra famiglia distrutta perché sono i genitori dell'assassino. Quindi io da madre di figlia e figlio è veramente molto difficile. Difficile, sì, genitori e non, ti svegli la mattina e tuo figlio ha ucciso la sua ex fidanzatina. Ti svegli la mattina e tua figlia non c'è più perché qualcuno ha deciso che la sua vita dovesse finire. Come si elabora il lutto? Tu che hai seguito tanti casi di cronaca, il dopo, il dopo, il dopo, dopo mesi, dopo anni, cosa succede nell'entra di queste persone? Allora, io dico sempre che queste storie non vanno mai abbandonate, gliele ho detto anche ad Elena questa mattina perché il dopo significa il processo e nel processo partono i tempi lunghissimi della giustizia e purtroppo quelli sono per ora ma oltre questo non ci dobbiamo mai dimenticare che poi arrivano gli avvocati della difesa che per carità fanno lo lavoro ma poi iniziano a chiedere le perizie psichiatriche e per cui, come dire, si ammazza perché in quel momento non si era capace di intendere di voler Intanto una persona non c'è più però Intanto una persona non c'è più No, perché poi bisogna ricordarlo questo Allora, l'elaborazione del lutto per ogni famiglia evidentemente è diversa dall'altra c'è chi non accetta per anni c'è chi elabora ma è una sofferenza costante cioè è l'ergastolo dei sentimenti di un familiare potete immaginare che per sempre questa famiglia non potrà più rivedere la sua Giulia Però l'importante è che la giustizia poi faccia il suo corso e lo faccia nella maniera corretta possibile e che garantisca con la certezza della pena a chi ha ucciso che garantisca assolutamente correttezza e giustizia alle famiglie e alle vittime e soprattutto alla memoria delle vittime perché nei processi, spesso e volentieri la memoria delle vittime viene infangata Il papà E non aggiungo altro Di Giulia, no, mi stai facendo venire in mente una storia che abbiamo fatto pochi giorni fa di una bambina ha perso sua madre quando aveva sei anni i fratelli erano poco più grandi di lei ha visto il papà aveva confesso uccidere sua madre quella mattina il padre ha fatto un paio di anni di carcere era una storia di vent'anni fa Sì, sì, quando si parla di certezza della pena Esatto Quindi, giusto sottolinearlo per fortuna poi sono state fatte anche nuove regole il papà di Giulia un uomo distrutto da dolore ha cercato di mantenere quel contegno Molto dignitoso Molto dignitoso Io penso pochi avrebbero avuto quell'atteggiamento molto difficile molto dignitoso si vede che è un uomo che convive col dolore Non solo ha parlato anche dei genitori di Filippo e credo comprenda assolutamente quale sia lo stato in cui si trova in questo momento psicologico e umano in cui si trovano questi genitori che continuano ovviamente ad esprimere condoglianza e vicinanza ai genitori della stessa Giulia hanno detto Giulia era qua, stava qua da noi ci sembrava andasse tutto bene ecco, questo padre ha parlato ha detto anche lui delle cose importanti dice io non voglio più che succedano le stesse cose che sono successe a Giulia a qualche altra donna per cui c'è la forza la volontà da parte di questa famiglia di continuare a combattere purtroppo però con questo lutto enorme e ripeto con questo ergastolo emotivo che gli durerà per tutta la vita perché nessuno riporterà indietro questa ragazza Possiamo sentire le dichiarazioni del papà di Filippo se c'è Siamo molto vicini a questa famiglia e quindi non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così un ragazzo che abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo dare mi hanno detto che l'hanno trovato e che si voleva anche andare in giro è una cosa dura non sapevo più cioè non è quella cosa che perché non è che sia tornato da un viaggio e quindi sì dico ma sì perché avrei preferito che forse la cosa finisse in un altro anche modo addirittura purtroppo sì però dopo è mio figlio e quindi ho detto devo dargli forza che comunque la vita deve andare avanti è mio figlio gli devo dare forza la vita va avanti anche se per la sua ex fidanzata la vita non c'è più e l'immagine di un padre che non capisce come sia stato possibile cioè loro fino all'ultimo hanno sperato che finisse in maniera diversa si fosse allontanato che avesse convinto Giulia l'abbiamo sperato tutti fino all'ultimo ovviamente poi il padre di Filippo è arrivato a dire anche delle cose che probabilmente non pensa poi gli hanno chiesto ma tu vuoi rivederlo hai desiderio di rivederlo e dice non è che è andato a farsi un viaggio e per cui ho il desiderio di vederlo su questo non rispondo è stato molto molto vago per cui sicuramente c'è una grande comprensione anche su quello che provano questi questi genitori i genitori non vanno colpabilizzati sicuramente i figli vanno ascoltati ma non è sempre colpa dei genitori perché c'è tutto un sistema da genitore quante volte c'è un sistema di educazione in questi giorni loro diranno a loro stessi dove abbiamo sbagliato cioè è in dubbio perché lo facciamo noi e il nostro piccolo figurati se succede una tragedia del genere ti dice ma dove abbiamo sbagliato fra l'altro si parla tanto di educazione emotiva siccome ne parliamo da tanti anni e ma mettiamo la scuola questa educazione emotiva adesso Valditara il ministro Valditara ne ha aperto questa mattina i quotidiani dicendo che ci potrebbe essere nei licei e con un'ora appunto di educazione sentimentale anche perché da parte come vogliamo però di racconto di quella che è l'affettività e l'emotività che purtroppo mi dispiace dirlo con i social con i telefonini con tutti i mezzi nuovi di comunicazione che da una parte sono un vantaggio dall'altra parte sono uno svantaggio perché spesso e volentieri i ragazzi purtroppo vivono su quella roba lì e per cui è difficile anche parlarci è difficile ascoltarli perché noi non ci dobbiamo dimenticare che oggi i genitori sono comunque soli soli davanti a una società ad un sistema molto complicato e allora se i genitori che ormai i genitori lavorano tante ore quindi sono sempre di meno a casa ma a scuola i ragazzi ci vanno è la scuola che deve fare il primo passo perché un genitore non ha tutto questo tempo se ne può parlare si può educare però un aiuto da parte della scuola serve l'Italia è tra i paesi europei a non avere l'educazione sentimentale a scuola quindi ho comunque la introdurrei guarda Caterina siamo un po' tutti tutte le istituzioni la scuola la famiglia l'informazione fare informazione corretta su questi casi su queste storie è importantissimo perché altrimenti si rischia di banalizzarle e di raccontare la superficie di storie così importanti ma soprattutto di protezione dove la riflessione costante quotidiana l'impegno quotidiano di tante persone che sono dedicate a queste tematiche se no si mette in seconda parte ecco credo che sia oggi che sia importante dire questo tu che sei diventata mamma non da tantissimo tempo di Carlotta è diventata anche la protagonista della tua favola di Natale sì ho scritto questo libro di favole perché penso che sia importante ascoltare i figli ma anche parlare con i nostri figli Carlotta è piccolissima però il desiderio così di racconto interloquire di dialogare con mia figlia è così importante e ho iniziato a scriverle le favole che ogni tanto le leggo perché la protagonista di questa favola pigiama pua si chiama Carlotta grazie il pigiama pua sono tutte favole di Natale fra l'altro sempre come ogni favola con un lieto fine ma meno male grazie Eleonora continueremo a seguirti a Sole Italiana visto che continuerai a occuparti di questo caso quando c'è stato il ritrovamento del corpo di Giulia in onda c'era Ballando con le stelle lo stesso Iva Zanzaroni a nome di tutta la squadra di Ballando con le stelle ha voluto appunto mandare un abbraccio virtuale alla famiglia lo guardiamo insieme grazie ancora Eleonora grazie